Queste sono le immagini girate dal balcone dai residenti di via Emanuele Mola, la strada che un tempo collegava ai quartieri San Pasquale e Madonnella. Con la chiusura del passaggio a livello è diventata terra di nessuno. Sì, praticamente ogni sera c'è gente che beve, che si ubriaca. Abbiamo paura, noi che abitiamo in questa zona, a arrivare, a parte il fatto che non c'è illuminazione per strada. Nel giro di una settimana abbiamo chiamato tre volte la polizia e due volte ci sono stati accoltellamenti con bottiglie di vetro rotte, di bevande che escono fuori dal pub e penso non potrebbero uscire, danni alle macchine. La strada chiusa, la realizzazione del sottopassaggio e l'apertura di un locale fino a tardanotte sono le cause delle risse, atti vandalici, come documentano queste fotografie. E poi ci sono seri problemi igienici. Perché tra le altre cose la strada è buia e molte persone vengono qui a defecare, a urinare, creando appunto problemi alla salute delle persone. Noi abbiamo bambini, a me dispiace che i miei figli hanno paura ora quando vedono una persona di colore, perché ho tanti amici di colore e non sono queste le persone di colore, assolutamente. Qui ci sono delle persone borderline che vengono, si ubriacano e creano soltanto problemi. La situazione è ormai insostenibile. Noi assolutamente non vogliamo vedere più queste cose. Non c'ha procura. Sì, procura assolutamente, cercando di poter fare qualcosa, visto che a tutt'oggi non è stato possibile fare niente. Nonostante abbiamo parlato, abbiamo detto, fate pulizia e cose, troviamo sempre vomiti da tutte le parti.